Allora, vorrei continuare a parlare, fare un video molto rapido, sempre sul fatto increscioso avvenuto a Civitanova, Civitanova Marche di questo ambulante nigeriano che è stato ucciso da questo uomo con ex precedenti già penali, piccoli, e il fatto increscioso che ho visto adesso, ho visto delle foto, e queste foto sono state scattate sicuramente da persone che erano lì ad assistere. Allora mi chiedo, ma è possibile che ogni volta che succeda un qualcosa di simile, le persone siano così, non lo so io, così superficiali? Allora le motivazioni è ovvio che ognuno ha le sue motivazioni, ma così superficiali da riprendere con un cellulare, da fare delle foto, da riprendere con un telefonino, da fare i video, invece di andare lì in dieci persone e fermare questo tizio, che fondamentalmente in dieci lo avrebbero fermato. Ci avrebbe rimesso qualche stambellata sulla schiena o sulle gambe, qualche l'uno, ma si sarebbe evitato una morte. Quindi è possibile che non si riesca a cogliere il momento delicato ed invece di riprendere un gesto brutale, simile, da fare delle foto, non si capisca la pericolosità della situazione e di intervenire, di metterci il viso, di rischiare anche una stambellata, di rischiare una collutazione insieme, ma di salvare una persona. Chiunque esso sia. Questa è una cosa che io, rivedendo le foto, rivedendo quello che è successo, i video, non riesco a tollerare. Ma è una cosa proprio che non riesco a tollerare di per sé. E qui non è un fattore di pelle. Se fosse accaduto a una persona cinese, bianca, era la stessa cosa. Sono situazioni dove una persona deve mettersi lì dinanzi e cercare di evitare il tollerare il possibile, almeno. Ma quando si riprende una persona agonizzando a terra, facendo foto e fregandosene, io credo che è giusto anche condannare chi abbia ripreso questo, chi abbia fatto foto e non abbia alzato un dito, per almeno salvarla una persona. Stiamo diventando una società robotizzata, robotizzata senza più un sentimento. Salve a tutti.